Mi aspetto che loro arriveranno sicuramente a mille all'ora perché vengono qui e vogliono prendere tre punti ma noi non molleremo, so che abbiamo una squadra forte, possiamo prendere questo posto nei play-off e domani è un'occasione per farlo vedere. Cos'è mancato nelle ultime partite al Bolzano? È arrivata la bella vittoria a Klagen, un furtvero, poi dopo la sconfitta contro il Graz è mancato qualcosina anche se la squadra ha tirato tanto in porta pur senza trovare la via della rete? Sì, è mancato che non abbiamo combattuto per 60 minuti. A Klagen, furtto, abbiamo iniziato benissimo il primo tempo e poi gli altri due abbiamo mollato un po' siamo riusciti comunque a portare a casa tre punti, però non tutte le serie funziona così e ci va bene in questo modo e penso che dovremmo iniziare comunque dal primo minuto a far vedere che comunque possiamo giocare e prendere questi tre punti importanti e 60 minuti è la chiave per vincere le partite. Yeah, once again, most important game of the year, every game coming will be the most important game of the year. It's crunch time right now, we're ready, you know, we know what happened last game so we've got to be ready right from the start tomorrow. It's a team that always works hard and we know they're going to come out and they're in a similar situation as us so we're all battling for that top five spot and they're going to be just as hungry as us so it's going to be a tough game to see who wants it more. You Grazie a tutti